Il bilancio è positivo, dopo un po' di anni non ci vincevano, non siamo riusciti a fare la Church Cup, quindi il 2013 l'abbiamo onorato, sperando di poter onorare meglio il 2014, il 2013 ormai sembra una fine, stiamo a fine migliore dei modi dopo 9 successi, è arrivato anche una sconfitta, ma come detto prima fa parte dello sport, perché è il sport di agonismo e non è sempre come lì con la papa alla moto, ma ci sono anche gli altri, quindi è andata così, il 2013 assolutamente positivo, grande squadra, grande gruppo, siamo tutti qui riuniti per il Natale, per il festeggiamento, però noi praticamente quando andiamo in giro siamo o meno sempre così, non è che mangiamo più di tanto, lo vediamo così, però andare in giro con la squadra è sempre un grande piacere.